no ciao a tutti sono al sac siamo qui su metro 2033 e e e e e non ti preoccupare farò aspettare il treno che deve aspettarmi allora cosa c'è qui dimmi ma chi stai parlando e il tizio sta parlando con te vuoi dirgli quali cose ok fammi vedere questo vss interessantissimo c'hanno le armi proprio si vede che non sono proprio progrediti state zitti mi interessi te posso ucciderti vado di qua allora sembra interessante nessuno c'ha da offrire qualcosa in più ok prendo te cosa c'è qui si ok senti questo è un kalashnikov ak74m interessanti oh questo qui ci sta no non ci sta si chiama vsv strano lo chiamano sempre si 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 certo allora no si come voglio io sembrano essere vorrei tanto provare una di quelle sta zitto vorrei provare una pistola col silenziatore però io sono la revolver quindi non saprei proviamo a vedere qua se riesco a trovare qualche medikit beh siamo già piene di medikit dinamite ah dinamite adesivo ok pugnali coltelli da lancio ok e non ci sono i filtri i filtri mi servono i filtri ce li ha sto tizio sta zitto allora oh eccola qua oddio questo revolver proprio lol allora eccellente eccellente bell'arma molto meglio della tua un minigun cos'è questo ma si insisti no mio dio la tua arma è meglio ma si insisti doppietta revolver vabbè ok si come vuoi no io sto andando in cerca dei filtri vendi compro vendi compro ah guarda il furbetto qua io le devo vendere due cose e mi da un proiettile ma fa eh allora qui abbiamo tutti tutte le munizioni ah e queste sono le munizioni normali ok ho capito questi dovrebbero essere i palettoni per fucile a pompa o sono questi sono questi e questi non so per cosa siano credo siano per un cannone e queste sono per la pistola prendiamone un po' come si fa da acquistare accetta ne prendiamo 9 però io voglio sapere dove sono i filtri filtri foltri foltri veloci che il treno mi sta aspettando cioè non è che mi aspetta però l'ho fatto aspettare un attimo quindi per favore si 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 filtri ecco dimmi dove sono i filtri dove sei bugiardo non ci sono i filtri allora adesso è un problema perché senza filtri io non riesco ad andare avanti tutto il necessario per sopravvivere in aree delicolose filtri coltelli tutto il necessario per sopravvivere in aree ooooh dammi voglio provare a vedere il kalashnik eh 5 volte meglio del tuo giocattolo non so mi consigliate di prendere la la capa stanta ma questa è una capa normale e questo invece vorrei tanto provare proviamo il vss quanto costa il vss eh sì dai no non posso voglio andare sotto il 70 papà 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 oddio sto perdendo un sacco di tempo mi interesserebbe un sacco sto minigun sarà bene figata ehm 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 papà papà no dai c'ho i coltelli da lancio per il momento per il momento prendiamo questi coltelli da lancio basta come vuoi no no non posso dov'è il treno dov'è il treno fa vedere il treno il treno dov'è il treno ok quale buco questo oddio non mi fido del buco cosa cos'è qua sono intrappolato non posso uscire ehi ehi questa è una truffa mi sento truffato senti allora ti regalo questa lampa dal posto di quel treno per favore non part.. non passarmi sopra ho già paura perchè devo stare sotto io? ah per farmi intrappolare no ehi non dovete no no il treno non mi aspetta lo so lo so quale vanno bagagli? ah dobbiamo stare qua sotto? oddio allora che ne dite? si va? perchè devo stare qua sotto? ah perchè sono ricercato ok ehi voglio vedere dove sto andando non mi piace andare indietro non mi piace ah mi stanno spingendo è un treno a molla tra un po' partiremo in avanti ehi 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 è davvero sicuro là dentro non vorrei vederlo cadere sulle rotaie quale rotaie cadenti? ma sareste spacciato ehi ehi ma che sicuro ehi 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 fammi scendere fammi scendere io c'ho paura di sta gente mi sta dicendo che sta per morire perchè loro vogliono farmi morire perchè non sono sicuri di quello che stanno facendo aiuto 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 ehi tu vendimi una k47 veloce dai che così almeno silenziata posso succedere eh cosa c'è? ehi sto volando volare oh ehi ehi ma perchè stiamo volando? perchè stiamo... posso vedere? non posso girarmi? non posso girarmi ok va bene godiamoci del retro del treno ora sali sul treno ai civili non ha permesso salire a bordo delle traduzioni ma non mi vedono da qua? oddio eh ma... ah perchè ci sono le rotaie sul soffitto? mi pare strano wow siamo appesi... ah perchè ci sono... adesso c'è... ok vabbè ok ok speriamo di non beccare un treno vero ci smaciullerebbe in un attimo specialmente un carri... boh si parte? per saltare la scena io non salto mai le scene cosa sta succedendo? ehi cosa succede? stanno salendo ma... e il mio amico dove è finito il... il fabbro ehi? attenzione il treno è pronto per partire si tutti i soldati muniti di ordine di viaggio devono salere a bordo senza induci si i soldati destinati al fronte trovati lungo i binari dopo la partenza del treno verranno accusati di diserzione e fucilato ah grandioso ahahah per il mio credo politico quanto a me sono qui per soldi e tu? io? entra nell'esercito dicevano vedrai il mondo oddio ma andiamo lenti e mi devo subire le lamentelle di sta gente nooo è il giorno peggiore della mia... uh cos'è sto? 2D vabbè possiamo leggere questo mmm interessante ahahah il libro di metro 2033 ahahah questo è un easter egg mi sa dai leggiamo vediamo come succede dopo questo pezzo di treno dai 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 cosa? io non ammette il suicidio finirei dritto all'inferno è vero è uno degli ultimi cerchi dell'inferno secondo Dante quindi stai attento a non suicidarti beh fidati con una pillola si fa prima non potrei mai togliermi la vita allora dammi la tua pillola preferisco buttarne giù due che marcire in uno di quei loro stalag ah beh allora in pratica metà della popolazione è contro di noi non si sa perché e conviene suicidarsi una volta raggiunto quella posizione di prigionia da parte del persino l'apocalisse non ci ha impedito di ucciderci l'un l'altro in nome dell'ideologia ecco stavo per attraversare il fronte tra imperialisti e comunisti ho saputo che un tempo hanno combattuto un'altra guerra e che gli imperialisti hanno perso imperialisti e comunisti perfetto nonostante l'apocalisse continuiamo ad ammazzarci giusto nah nah nahع va addio preso un colpo ehi aspettate mi a merda il treno non aspetta memoir obama mia se esplode sono fortunato se esplode c'è qualcuno che mi vuole vivo Sono nemici Ok Uh sono un ninja Ok non ho comprato Le munizioni Del mitra Sono un genio Cos'è sta arma Ah È vero è il mitraglione È un fucile a pompa Diamine Devo andare da sta parte Fatemi vedere un attimo dai Allora fa vedere Frontiere attraversare la frontiera Ed entrare nel territorio dell'imperialista Perfetto Quindi noi siamo comunisti Qualcuno non sarebbe contento Però va bene Eh anch'io anch'io Devo andare qui sotto Ah raggio Sshh bravo Uè salario Anche il salario qui Perfetto Veloce Veloce Diamine Cosa sta succedendo qui A morte Secondo me L'imperialista Ah Gli imperialisti Sono peggio Che i comunisti No dai Diamine Non si vede niente Non so se questa parte La devo fare Sparando O abbassandomi Preferirei abbassandomi E facendo silenzio Però sarebbe più conveniente Sparando Cioè più conveniente per loro Perché farebbero prima Di uccidermi Poi non so se con la luce Mi riescono a vedere Ok Andiamo Un caricatore pieno per ciascuno Questi qua proprio Sono presi Molto bene Ecco dove sono caduto Maledetto buco Ah no In questo buco Sono caduto Allora Ok saliamo di qua Aiuto Non sta mentendo Ha ragione Ha ragione Fidatevi Ok E la la What? Che cavolo è successo? Facciamo così dai Il problema è che Non so dove andare Il problema è che Non so dove andare Lì sopra Mi ammazzano Per chissà quale motivo Lì ce ne sono tre Che non mi conviene superare E qui sopra Invece c'è qualcuno Che mi ammazza Per chissà quale motivo Eccolo là Ok siamo fregati Ma perché muoio così in fretta Facciamo così dai Andiamo lì E iniziamo ad ammazzare Con i coltelli Come fanno i ninja Il futuro della metropolitana Di Lenin Carica 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 Con la torcia Non mi vedono Wow Ok E' rimasto lì a guardare E questo qui è morto Morto sul colpo Mi hanno visto No Spero Ok Ok Siamo dei Perfetti ninja Diamine Sono più potenti Di quello che pensavo Sti coltelli Credo che li userò Più spesso Sono delle munizioni Silenziose Ora cerchiamo Ad ammazzare Quel tizio Che si trovava Lassopra No Merda Ah Almeno mi ha salvato Vuol dire che devo andare Da questa parte Ma da questa parte Precisamente Dove Qui No Continuo a morire Sì Il problema è che Non mi dicono Ah ma la bussola E' vero Continuo a A ignorarla Allora Devo andare di qua Giusto Andiamo di qua Che è più Normale A volte mi chiedo Se siano veramente Queste le strade Da percorrere Ok Ora da questa parte Ho come l'impressione Che tra un po' Qualche tubo Crolla Crolli Crolla Quello che è Ehm E? Lì? What? Devo buttarmi In quei cosi? No Un po' troppo La mirror Sage Ma quindi Cosa devo fare? Una volta arrivato lì? Allora Riproviamo Con calma Uno Due E tre No Dovo saltare Ok Sono un epic Quest'episodio è un epic fail Precisamente Epic Vuol dire Epiclus E fail Vuol dire Fly Luce E che vuol dire Continuo a sbagliare No Non vuol dire Cioè Dovrebbe voler dire Wow Però non so Precisamente Dove Dove Possa trovare Questi verbi In latino Però Magari non derivano nemmeno dal latino Derivano magari dalla lingua E quindi potrebbe essere una cosa leggermente Diversa Però Se imbuto giù muoio Se vado lì invece Ok Questi salti Sono veramente molto difficili Poveri utenti per le console Non so come ce lo Possano fare Ora andiamo di qua Posso salire qui normalmente E ya Almeno qualcosa di facile Avanti Ok Parte Un po' troppo difficile Cioè Un po' troppo strana Più che difficile Ok E ora devo andare di qua Ok 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 dai è fatta Speriamo che mi faccia un autosalvataggio veloce Oh merda E quella granata da dove è sbucata Una rampa Posso andarci in giro in moto Ma io in moto non ci posso andare qui Perché ci sono appena le biciclette a quattro ruote Non ha senso mettere una rampa qui Se ci puoi Cosa Ah un attimo Mappa Con la mappa La mappa La mappa Allora Andiamo da rettili qua Posso vedere che ore sono Ok tra 5 minuti Mi sa che sto però Qui la registrazione Però Brutta cosa questa Devo scendere Devo fare un'altra parte Sì mi sa di sì Scendiamo E facciamo un'altra Parte Forse ho sbagliato Posso salire su questo filo di ferro Ya No Ya Si E qui sotto Non ci posso Oh Aiuto Sto camminando su un filo E' un po' Strano No una volta arrivato qui Cosa devo fare Ah E come dicevano gli altri Devo suicidarmi E patati patata Si giusto Giusto Mi pare giusto No Non vorrei morire di nuovo Ma mi sa che devo Oh no Eeeh Si Devo Ah Si Ultimo respiro proprio Però non ha fatto un'ultima preghiera Peccato Allora Dove siamo Dove siamo Dove siamo Ci ho salvato Qui Ah Devo andare lì Ma quanto sono stupido Allora Non l'avevo visto Questo pezzo E da qui si parte Da qui E da qui si va di qua Ok Andiamo a vedere cosa c'ha Quel cadavere lì Che non ho visto Prendi tutto 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 La maschera l'ho cambiata Fatemi vedere No Cos'è questo G Ya L'ho cambiata Era presa malissimo Quella di prima Tolliti la maschera Eeeh Dobbiamo scendere qui Si Adesso andiamo nel tubo Tubature Come si muoveva il serpente No il serpente basilisco Di Harry Potter Eccoci qua Metti la maschera Metti la maschera Metti la maschera Metti la maschera Ci siamo Filtro Cambia filtro Ya Eeeh Quanto siamo Vabbè siamo una merda In pratica Allora Andiamo avanti Allora Lo bussola mi dice di qua Non vorrei perdere niente Però so che sto perdendo qualcosa Quindi lasciamo stare Oh qui cosa c'è Un casco No Cambiamo ancora filtro Odio sentire sto tizio soffocare Fa vedere A quanto è Beh dai si Sembra Uno schifo Come prima Allora Andiamo in cerca di un posto migliore Per finire l'episodio Non vorrei finire l'episodio qui Tra un minuto Quanto è bello avere l'orologio in game Oh Cosa è successo? Ok mi si era buggata la lancetta dei secondi Mmm No di qua No Non dirmi che Luci Vedo le luci Ma perché continuano a tirarmi le granate? Come se sapessero che Uh hanno messo le trappole Furbacchioni Magari facendo 10 metri Ne avrò attivate 100 Però Devo salire qua sopra Mi sa di si Resisti Resisti Adesso Adesso finisce C'è sto pezzo di schifo Allora No non devo andare di qua Devo andare di qua Via di qua Salto Ah Ah ok Sono trappole Come si chiamano quelle trappole? Trappole esplosive Ok dai Resisti Resisti Ormai è fatta Ehm Mi dispiace Non è fatta Quelli sono i minuti? Ho 9 minuti ancora di ossigeno Oh mio dio Allora vediamo Velocemente Devo stare La bussola mi dice di andare di qua O è una bussola traditrice O non lo so Allora saliamo di qua Seguiamo la bussola di nuovo Ehi 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 fammi salire Ok Andiamo Di qua Di qua Ah Ah Non vi avevo viste Oh Siamo di inizio di nuovo Qui non c'è nada E andiamo di qua Allora Ok La maschera è a posto Yeah Ok Ah ah Ridete ridete È l'ultima volta che potete ridere No in realtà è la seconda Perché magari dopo potrete ridere sul mio cadavere Però a quanto pare Non è che sia Spegni la luce Ok Qui ce n'è uno Due ce ne sono Ehi What Oh merda Oh merda Che razza di fucile è questo Un fucile con 20 colpi Però è potentissimo Diamine Ok Forse non è andata come aspettavo Il coltello è rimbalzato sul casco di una persona Questo vuol dire che gli headshot non si possono fare tranquillamente Uh questa che arma è? La bastarda Di nuovo Non ti voglio Mi aspettavo che ci fosse la famosissima AK74 Uh Quanto pare non c'è Allora Carichiamo tutte le armi Aspetta che adesso ne arriva uno Usiamo i coltelli L'ultimo coltello da lancio Che abbiamo Che abbiamo sprecato Ok anche questo abbiamo sprecato Non ti preoccupi Ok Ricordami Ricordatemi di comprare più coltelli da lancio Che sono utilissimi Ah posso anche raccoglierli Perfetto Ricarica E anche questa Ho fatto un Eccola qua la pistola Come si chiama Il Cosa Vediamo un attimo com'è Ehm Ah Della potenza Non ho letto Il gas Giusto Ok Ah ecco cosa usa Quei proiettili Però il gas Dov'è Il gas Eh Il gas Ah diamo Ah Cosa Ok Devo capire Cos'è che usa Ah abbiamo tre cose Ok Ma cos'è che usa il gas Della 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 Del mitra qua Del Di questo schifo Boh Non lo so Vabbè Io mi tengo il fucile a pompa Mi sa Preferisco Perché c'è un sacco di munizioni Per il fucile a pompa Non vorrei Perdere tutte queste munizioni Poi tra l'altro Quella la Bisogna del gas Anche per poter sparare Quindi Non so proprio come fare Ehm Armata rossa Sì 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 Armata rossa Coso Come si chiama Ehm 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 Quel tizio di zombie Di black ops Ehm C'è la sulla punta della lingua C'è Ehm Coso Poi c'è Dem No Dem Se no Ehm Nicolai Giusto Nicolai 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 Vai sempre nei Guai Allora Qui cosa c'è Perché quel tizio ha sparato E poi è andato via Ma sì dai Spariamo un colpo di Così a caso Magari specchiamo qualcuno Tipo un no scoop Un colpo Riuscirò ad ammazzarne uno Yeah Vabbè bene Tiro una Vostra Via 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 Spero di averne ucciso Almeno uno Ehi Ok Ah giusto Devo terminare qui la parte Se no Ehi Non guarda allora Ok Cos'è questo Fumera Granata Va bene dai Termino qui la parte Noi ci vediamo alla prossima Ciao E alla prossima Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima